Oddio 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 Salve a tutti i friends Salve al vostro supercarri Staccoci qua ragazzi Andiamo a fare una prova di che cosa? Andiamo a fare delle piccole prove a tempo Con le vetture delle varie classi Oggi partiamo con la classe che a me Una delle classi che mi piace di più Ovvero il Vestorale del Mediterraneo Che prove speciali ha? Minchia sono tutte lunghe Proviamo la bella Categoria gruppo A guarda Guardate ragazzi Beh questa è una categoria iconica degli anni 90 Ragazzi potremmo fare pure una prova unica Cioè diversa per tutte le macchine Poi si allungherebbe troppo e non c'ho voglia Facciamo la prova partendo Dal Subbarone 1995 Con cui McRee vince il mondiale Sainz arriva secondo Questa è una macchina iconica Tre volte campione del mondo costruttori Negli anni 90 di seguito Quindi capite Quanto possa aver dominato l'ambito Faremo un po' di metri Per vedere un po' se va Ah cazzo sbagliato Prova speciale ragazzi Questa è quella dove ci stanno le pietre a bordo pista Bordo strada come cazzo di chiama Va bene Partiamo va Quanti che roba voglio Sound c'è Minchia è proprio speciale questo Da cazzo è uscito Non tagliare Oh cazzo 30 Ma non testo Ma chi cazzo Ma sono folle Sound perfetto 40 Sinistra 4 corta In destra 5 sudosso Apre 60 Però la grafica va lentissima ragazzi Sinistra 3 corta In destra 5 sudosso E arrivio in versione destra In sinistra 4 In sinistra 4 Oh cazzo Eh sapevo che era l'inversione In destra 5 taglia E sinistra 5 E sinistra 5 Sinistra 6 In destra 6 Nonostante era una berlina C'aveva un'agilità pazzesca Accendo sinistra Dopo incrocio Chiude 2 30 Sinistra 5 In indosso E destra 5 sudosso In sinistra 6 Rallenta In destra 6 sudosso 50 Tornante destro Chiude E accenno sinistra Eh il freno a mano è un problema Come in guardia c-generation Apre E destra 5 E sinistra 5 E destra 5 E sinistra 5 Media Rallenta 30 Destra 5 E sinistra 3 Chiude In secca destra al bivio 5 5 Destra 4 sudosso 40 Dosso Ma che figato ragazzi Peccato che la grafica rallenta ulteriormente qua In destra 6 Sto messendo a 20 fps Sinistra 1 corta E destra 6 Chiude lunga Troppo bello ragazzi La macchina si guida da Dio Questa è fatta bene C'è la guidabilità C'è sempre quei piccoli difetti che vi ho detto nelle altre Però di base La sinistra sudosso La Subaru si guida molto bene E sinistra 3 Chiusura lunga lunga E destra 3 40 Ah che vedi questo è il problema vedete Il problema Ti parte la macchina e non la riprendi più Cioè sostanzialmente non la riprendi più Comunque la Subaru si guida bene Sound molto realistico Mi è piaciuto veramente tanto E devo dire soddisfatto dai Soddisfatto di come hanno rifatto la Subaru Andiamo a provare la Ma che cazzo di prova avevo messo ma io? Boh non me lo ricordo più questo Andiamo a provare il deltone Eh 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 Il deltone raga sapete quanto lo amo io Andiamo a vedere se sono fatte bene le gruppa A Non stiamo minimamente spingendo per fare qualcosa Io volevo fare le prove speciali raga Me ne mettevo alla mano un minuto Ecco già abbiamo sbagliato prova speciale Vabbè ma ce ne frega poco Non penso sia quella di prima comunque E infatti vedi Inizia con accenno destra Accenno sinistra Buona fortuna 5 3 2 1 Via Accenno destra Accenno sinistra Apre 60 Sinistra 3 Apre 80 Destra 5 50 Attenzione Destra 5 Non tagliare E sinistra 5 Destra 5 Chiude E destra 5 Lunga Chiude 1 Non tagliare E sinistra 2 Corta 50 Non taglia Sto la pietra qua però Attenzione Accenno sinistra E va bene Piccola bottarelle 40 Sinistra 3 Brusca 60 Il sound è fantastico C'è Destra 3 Corta E sinistra 6 E accenno destra Stai a sinistra In destra 5 E accenno sinistra E destra 4 In accenno sinistra Frena 50 Oh Oddio 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 Ero andata di sotto Destra 6 Chiusura lunga lunga 50 Ecco le famose pietre Destra 4 Lunga Apre 50 Ritarda Sinistra 5 Chiude 50 Sinistra 5 Nascosta 40 Destra 4 Chiude In sinistra 5 Destra 5 300 My god Attenzione Accendo sinistra Lunga lunga Chiude 4 70 Destra 6 Non tagliare Lunga 50 Rallenta Sinistra 5 corta Tieni 40 Sinistra 3 corta E destra 4 Non tagliare In sinistra 6 300 Ah mi sono fatto frega Bello sto rally del Mediterraneo Tostissimo però Rallenta Sinistra 5 E destra 4 corta Muro interno 100 Ricordiamo sta macchina Campione del mondo 92 di rally Era ancora Martini Racing Questa che vediamo qua Eh va bene E quella di Sainz 93 che non fece nulla invece Beh ragazzi Buona la Delta Si guida bene Un po' meno agile Forse della Subaru Ma c'è un sound pazzesco Il sound è sicuramente La cosa migliore del gioco Allora Andiamo a provare Un'altra prova speciale Che abbiamo fatto Prima Ma lo dico Questo sarà bo Allora Proviamo la Escort La rivale delle due Che non ha mai vinto nulla Purtroppo la Escort Perché ha fatto Solo vittorie di tappa La guidò anche Il nostro amico I Biasion E Sostanzialmente Non ha mai vinto Un mondiale Però rimane Una grande Grande macchina Vai Ma che bello Delecourt Grateloup Inizia con destra 5 Sinistra 4 Buona fortuna 5 Ah bel sound ragazzi Ma che macchina 3 2 1 Via Barmitta laterale 5 Tieni Di sinistra 4 Non tagliare Di destra 4 Chiude Tieni E accenno destra In sinistra 6 Bella ragazzi C'è la Mostruosa Non tagliare 100 Destra 5 E accenno destra Lunga 250 Ragazzi di pietre Rallenta Accenno sinistra 40 Corta Sinistra 3 Destra 3 In sinistra 3 30 Destra 5 60 Attenzione Destra 3 Apre Tieni 60 Sinistra 5 Chiude Lunga Questa forse è quella che c'è il sound peggiore È buono però c'è un piccolo Iii Iii Apre 60 Un sound sottofondo secondo me non è proprio perfetto Bravale 50 Accenno destra Ecco qui vai Danni Danni irrecuperabili ragazzi abbiamo perso l'escort Vabbè ragazzi è bella Bella pure l'escort Andiamo a provare pure la Quell'altra che ci sta Sono fatte bene l'escort Forse a livello di sound Un po' macchinoso Però Devo dire che stanno là Ce l'hanno fatte molto bene Le gruppo A Però Questa hanno ripreso Quello che già c'era Di dirti vecchio Capito Giustamente è bastato ridare una spolverata ai vecchi modelli Allora qua ci sta la legacy Che è quella di fine anni 80 E la legacy RS Che è quella di inizio anni 90 Direi di provare questa Che è stata quella prima della Subaru Impreza Con cui McCree vinse Una gara nel 93 All'ultima gara Prima di arrivare la Subaru Impreza Pensate un po' voi Riusci a vincere l'unica gara Nel mondiale URC Andiamo a vedere Ancora una volta Una prova speciale diversa Vai Fatte bene Purtroppo è la guidabilità Che c'ha sempre questo Problematico ritorno di C'è questa partenza Del posteriore Che non ha sento Vedete pure com'è Rallenta la grafica C'ha dei cali paurosi Ottimo il sound Molto realistico Io c'ho il DVD di questa E sto rally del Mediterraneo E' proprio bello Ti sto tagliato ma Una macchina un po' strana Accendo destra In accendo sinistra Sudosso Cento Rallenta Stai a sinistra Sudosso Oh my god 120 Tornante destro Trenta Accendo sinistra Rallenta Molto bene Amma mia un testa Una guida questa Si vede proprio Che non era una macchina Proprio fatta a posto Per il rally Accendo destra 70 Eh vai Ci abbiamo provato Assesso le pietre Siamo riusciti 70 Ma tanto Porre se non ritardo Ritardiamo lo stesso Ah eh Questa è la più inguidabile Non tagliare E destra 1 Non tagliare Non le esco Non le abbiamo guidato Non lo so In secca sinistra Al video Non tagliare 40 Proviamo Sinistra 4 Taglia E destra 3 Apre Tieni 60 Ma che hanno risolto Già con una patch Le pietre Ragazzi Sì probabilmente sì Se vi ricordate Ieri con le pietre Succedeva Quanti volte mettiamo Le ruote fuori Rattellava la macchina Fate vedere Forse un po' L'hanno risolto E' difficilissimo La guida Attenzione Dosso E destra 3 Porta In accenno sinistra E dosso lungo Rallenta 80 Destra 3 Brusca 30 Sinistra 1 Non tagliare 60 Dosso E accenno destra In dosso piccolo 140 Destra su dosso E accenno sinistra Su dosso Muro interno 60 Pericolo Stai a destra Su dosso 70 Dosso 30 Tornante sinistro Apre Chiude In accenno destra 80 Sì ragazzi Sono fatte bene E dosso Sono fatte d'addio Le gruppo Ma chiaramente Sono Già modelli Presi Dai vecchi Dirt E' bastato dare Una liftata Non tagliare 70 Ed era facile Riprodurli Al meglio Quindi Sinistra 6 30 Sinistra 5 40 Attenzione Una volta che c'è presa la mano Oppure sta su bar Guida Dai Un po' meno della 555 Però Minchia E accenno sinistra 50 Ah bene Ragazzi Mi sono divertito Le macchine storiche Le proveremo Tutte le categorie Proveremo Perché secondo me E' veramente una figata Provarle Giocarle Vedere un po' come vanno L'abbiamo sfasciata Questa Molto molto bene Ripeto Rimane un po' di problema Di guidabilità Che purtroppo c'è E l'hanno notato Tutti quegli obiettivi Che se si risolverà Può portare veramente Il gioco a un livello Superiore Quindi vediamo un po' Che succederà Intanto vi do appuntamente A prossimo video Il vostro supercord Ciao Ciao Aglio Ho 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 Grazie a tutti.